Ecco qua la nostra Elena, dopo quattro giorni di scuola è diventata bravissima, è arrivata fino a Corrodella brava, tieni avanti le braccia, ecco così, le braccia più avanti, l'impugnatura delle racchette come la bicicletta, brava, racchetta brava così ok, brava, prossimo anno farai parte della pattuglia giù adesso, dritto, via, bravissima brava Elena brava, sì, sì, ve l'ho detto già